La cosa migliore che come padre tu possa fare per il tuo figlio è far vedere quanto tu ami la sua madre. Sembrerebbe facile. Invece i padri spesse volte si dispertono davanti alla bellezza dei loro figli, soprattutto delle figlie femmine, che si mettono sul loro ginocchio e lo incantano. Lucide i miei occhi, sei tutto quello che avrei mai voluto dalla vita. Le bambine, soprattutto, hanno bisogno vedere l'alleanza fra padre e madre, hanno bisogno di sentire con ogni respiro come lui dice a lei, anche tra le righe e senza parole, io amo la tua madre. È la donna più bella che esisti. Sono felice che tu sei fra di noi, perché sei la nostra amata figlia e perché sei la figlia della donna che amo. Questo mette la figlia in pace. Lei da questo momento non cerca più di mettersi nei panni. di colei che si sente quasi, se non meglio, come la mamma. Le figlie cercano spesso di sedurre i padri. I padri non vedono l'ora di essere seduti. Sembra bello, ma il più delle volte è semplicemente delitiero. Perché, a media e lunga andata, la figlia non impara a stare al suo posto. Non impara qualcosa di molto utile, di molto sano, che a un certo momento in poi potrà crescere. Perché è quando ha vissuto tutta la sua bellezza da figlia, completando questo ciclo. Non ha bisogno di crescere già prima per soddisfare le esigenze di papà o di mamma. Io come papà vorrei dire ai miei figli guardate la vostra mamma quanto è bella, quanto sono fortunato di averla accanto a me. e tu vedrai che anche i figli, grazie a questo, vorano. Buona giornata.